Il mio nome è Luca e oggi vogliamo mostrarvi le funzionali e le funzioni di queste uniti speciali che sono disponibili a Buker Hydraulics come pump e motori da questo anno Mi chiamo Dieter Kvalzmaier e sono il manager di innovazione di Buker Hydraulics. Luca, come è possibile ottenere questa performance? La migliore modo che posso mostrare questo è con questo modello 1x1 Come potete vedere, ci sono 6 pistoni all'interno per l'interno per l'interno Questo significa 12 totali ogni volta Le uniti di axel pistoni tradizionali hanno 3-5 pistoni in suzione In questo modo, i pistoni e il cilindro hanno una piccola piccola Cada pistoni e il cap trasforma il torque in pressione senza le parti aggiorni aggiorni Qui posso mostrare questo in dettaglio Il corto pistoni significa solo l'accelerazione di una piccola quantità di olio e questo riduce il rischio di cavità E anche, con una conversazione direttamente di torque in pressione Additional parti come boreheads e slipper shoes sono eliminati Ciò che vogliamo mostrare oggi Ci sono i propri proprii di axel Quando usati per posizionare le posizioni di pesce Le pesce di pesce Per questo motivo, usiamo 320 bar Per muovere 1,2 toni di carriere di questa stentale Versi con freddo rubri E flexirli con un ritmo sinusoidal Questi fine, precise movimenti Under 320 bar È solo possibile Per usare la lubricazione hydrostatic Inoltre di hydrostatic Inoltre di design È che le grandi hydrostatic forces sono balanzate E che la lubricazione è hydrostatic La lubricazione è già buona Anche in stentale Le perdite statiche sono minimali Ciò che il comune può essere semplice E giudizionale Molto impressionante È la presenza di pesce Under 320 bar Con molto low RPM La alta precisione dei componenti Resulta in solo un molto low liquido Questa performance in una pump È unico in un mondo Inoltre di mercato Grazie a la lubricazione hydrostatic A con le principi E tra le principi Le calciate Con cui tutte le forze Un'estichone Inseriamo Una efficienza Un'estichere Ecciserà 99% Anche alla velocità Ecciserà Per piaston Le rinforzки Molte movemanya sono possibili. Possiamo uscire queste avvantaggi quando usiamo i nostri motori di winch drive. Con questi uniti possiamo posizionare pesanti con millimetre accuratità. Una volta, il numero alto di pistoni e la possibilità di lavorare a la velocità e a la pressione combinazione aiutano a questi risultati. Per dimostrare la efficienza alta volumetrica, vi apre la linea di drain. La condizione di lavorare sono 320 bar. La temperatura di olio è 40 gradi. E questo piccolo fluo indica la efficienza alta volumetrica. Per concludere, vi voglio mostrarvi una speciale feature del X che ci ha amaciato anche, che è molto lato. Questo pump ha lavorato in una condizione di pressione per una volta un'ora contro 320 bar. Anche in queste condizioni di lavorare, il pump è hand warm, e il monitor è 40 gradi. ci sono questi lavori di potenza, che rendono l'AX per i vostri progetti dell'elettrificazione. Potremmo rispondere alla capacità batteria, o potremmo aumentare la performance operativa. Questo rende la macchina più attrazione al mercato, o potremmo ridurre i costi operativi. Ci siamo molto felici di invitare a te per il web meeting o per la visita a noi per discutere in una forma più profonda i vostri progetti con i rx pumps and motors.